buongiorno e buona primavera oggi siamo al decimo giorno dei 24 giorni di studio 10 giorni e continuiamo a cercare il suono con le note lunghe a 40 di metronomo la scala del giorno è mi minore su tutte e quattro le corde io ne faccio una divisione dell'arco 4 quarti 6 quarti 8 9 12 16 18 24 24 18 16 12 9 8 6 4 sempre il peso naturale solo guidare l'arco sentire il punto di contatto dei crini con la corda e Grazie a tutti. Anche alla punta, sentire il contatto dei crini sulla corda, distribuire bene l'arco, non accelerare... Non importa se l'arco cede, l'importante è distribuire bene l'arco. Il peso e la velocità. Grazie. Sentire l'attrito. Senza aggiungere peso, solo il peso naturale dell'arco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dai vita alle note. La musica continuerà a sgorgare con irresistibile potere. Bellissimo anche questo. Dai vita alle note. Allora, la scala di mi minore, quartine, terzine, veloce, lenta, con le diteggiature che uno conosce può fare bene, cercare bene, per le diteggiature nuove, per le quartine, per le terzine, ma dai vita alle note, mettiamo musica nelle scale. Allora, oggi Schumann nella scala di mi minore. Schumann questo, per esempio... E proviamo a realizzare questo legato... E proviamo a realizzare questo legato... E proviamo a realizzare questo legato... Praetica. E proviamo a realizzare questo legato, perché è molto difficile di essere Ecco una scala di B minore con l'inizio del concerto di Schumann per cercare questo suono, questo carattere romantico anche in una semplice scala di B minore e questo per il legato, poi per lo staccato Beethoven, cerchiamo di questo carattere un po', lo conosciamo bene... E allora qui il ritorno dell'arco, le tre note con un buon attacco, questo ritorno e questo attacco... I direttori sarebbero contenti sapere che si studiano le scale con quello che poi si suona in orchestra. Bene, scale con vita nelle note, come dice Casalsi. Il polso quando cambia la corda ha bisogno di una particolare attenzione. Ecco, quando cambia il polso, quando cambia la direzione... Prima tutto il braccio va sulla nuova corda e poi il polso cambia. Io sono ancora in su, quando sono sulla prima corda... Adesso esagero... Continuo ad andare in su, quando sono sulla prima corda... Allora cambio... Ma non prima... Non prima... Non prima... Ecco, cercare qualsiasi brano... Qui è sempre Bach applicato a un colpo d'arco di Sercik... E anche qui quel metronomo... Partire da... Qui nel libro è indicato da 96... Per esempio questo esercizio... Alla metà... Sempre con la quantità di arco che poi... Sarà alla velocità obiettivo dell'esercizio. Eccetera... Poi si fa fare quattro scatti... Eccetera... Poi ancora altri quattro scatti... Poi ancora... Al tempo... Esatto... Dell'esercizio... Poi... eccetera. E questo è il lavoro sull'arco, sul polso, sulle scale, sulle note lunghe, si volta pagina e si va alla mano sinistra. Il vibrato continuo negli spostamenti con lo stesso dito, questa è una cosa sulla quale bisogna lavorare veramente su due corde in modo da avere questo suono tenuto e non accompagnare con l'arco e neanche fermare il vibrato per quanto possibile. Tutte le dita... E poi... Eccetera. Tornare indietro anche... Il passaggio del semitono, cercare di anticiparlo un pochettino col gomito e non di scatto così, ma cercare di anticiparlo un pochino in modo che il vibrato sia sempre continuo. E il vibrato continuo anche nelle estensioni, per esempio. Mentre si fa l'estensione non fermare il vibrato, per fare l'estensione, ma continuare a vibrare in modo che l'ultima nota sia legata a quella successiva. Si può fare anche con un'estensione maggiore. questo movimento è importante. Quante volte c'è nel repertorio questo passaggio da cercare di legare il più possibile. Quante volte c'è nel repertorio questo passaggio da cercare di legare il più possibile. E poi note doppie e le note doppie le seste, per esempio. La sesta col secondo e terzo dito, ma devo sempre ricordarmi cosa fanno le altre due dita. Allora, non abbandonate a se stesse, ma magari senza premere sulla corda, ma appoggiate a un tono di distanza. fermando l'arco, fermando l'arco la testa fa lo spostamento, da ordini alle dita, fermando l'arco tutto il tempo che è necessario. Non serve avere un metronomo per studiare queste cose. Ma avere il tempo per ragionare, fare lo spostamento. Se non è corretto si ripete e si cerca di capire cosa c'era che non funzionava. e sempre l'intonazione nasce dal silenzio, non nasce dal suono e si corregge. Questo correggere è ovviamente importante perché dà l'idea che uno sente la propria intonazione. Però, una volta suonata, la stonatura è partita, è nell'aria e non si può più recuperare. Allora è meglio aspettare un attimino e cercare di mettere, di attivare tutti gli ordini giusti per fare lo spostamento giusto. E qui stamattina ho preso un passaggio... Conosciamo tutti, è veramente rognoso questo passaggio delle cinque pezzi in stile popolare di Schumann. Allora, seste ce ne sono qui finché si vuole. Allora, come studiare questo? Come ho studiato questo? E come sto studiando questo passaggio? Sempre. Questo movimento? Prima cosa, chi porta avanti la mano? Le dita vecchie? Quando arrivano sul punto, allora il secondo dito va articolare. Molto importante è che nel mio passaggio l'arco non faccia questo scatto, ma continua... Nella sua velocità... Nella sua velocità... Altrimenti si accentua la difficoltà del passaggio. Quante seste ci sono in questo passaggio. Allora, un altro modo che uso per studiare è dividere le note doppie e studio solo la seconda corda. che porta indietro la mano? L'ultimo dito... Questo... Quando arriva sul Do diesis... Quando arriva sul Do diesis... Adesso l'altra voce... Con la stessa diteggiatura... Cioè la seconda corda suona con le dita, ma sta muta. Suona solo la prima corda. Ma è la prima corda. Adesso insieme... cosa succede? cambio d'arco, prima cambiano le dita nel cambio d'arco sposto mentre sto suonando questa sesta queste due dita stanno già suonando quella successiva sono pronte nella mia testa devono essere pronte a suonare no e poi all'ultimo momento eccetera questo passaggio sempre una corda alla volta no e poi E la regola del tre, cercare di ripetere tre volte e tre volte deve venire come si vuole, non due volte come si vuole e una volta come vuole lui, tre volte come si vuole. Se non viene tre volte, dico tre, ma potrebbe essere cinque, potrebbe essere dieci, potrebbe essere anche una, ma si ripete finché non si ha la certezza che sia stata la testa a dare il comando e non sia stato lui a dire ma sì, stavolta vieni e andiamo avanti. E anche per oggi i 24 minuti sono finiti, ma lo studio va avanti. Ci vediamo domani alle 11 per l'undicesimo giorno di studio. Ciao, buona giornata.